Si tratta di un progetto del 2012 che però fino ad oggi non aveva trovato finanziamento. Abbiamo deciso come amministrazione comunale di garantire l'adeguata copertura finanziaria di 36 mila euro ed è un intervento di copertura dei nuovi padiglioni molto sentito e molto atteso da parte di tutta la cittadinanza che così potrà recarsi a trovare i propri cari anche nei mesi più rigidi al riparo dalle intemperie e soprattutto direi anche quelli che sono i pensieri floreali che i familiari decideranno di lasciare depositare al cimitero potranno godere di adeguato ristoro. Quando prenderanno il via ai lavori? All'incirca dovrebbero iniziare nel mese di settembre per poi essere conclusi entro il mese di ottobre perché abbiamo chiesto specificatamente agli uffici che per la prossima ricorrenza dei cari defunti l'intervento sia appunto terminato.